Gentili telespettatori, buona giornata. È uscito l'aumento del gas che sarà attivo a fine di questo mese, fine ottobre, ma c'è già il numero di quanto aumenta. Tenetevi forte del 74%. L'aumento del 74% darà segno di sé nella bolletta che arriverà poi a novembre e la fatturazione sarà mensile, non più in due mesi, ma mensile. Quindi ha aggiornato il costo del gas al mese di ottobre. Così l'autorità di regolazione per l'energia, reti e ambiente a Rera ha aggiornato i prezzi del gas a partire dal primo ottobre, fissando il costo a 196,25 centesimi per metro cubo contro i 104,99 centesimi precedenti. In termini percentuali è un rincaro dell'85%, il che, considerando tutti i costi riportati nelle bollette, fa un aumento totale del 74%. Si tratta di un prezzo indicativo che sarà puntualizzato all'inizio del mese di novembre. E poi si procederà con la fatturazione mensile, prevista per il mercato a maggiore tutela. E scatta proprio dal primo giorno di ottobre e ha sollevato delle perplessità sin da subito. I detrattori non la vedono di buon grado perché mancherebbe di chiarezza e perché il prezzo del gas è indicizzato al mercato italiano, PSV, in cui i prezzi sono generalmente più alti rispetto al mercato olandese TTF. Il pezzo del gas torna ad essere aggressivo. Nel primo trimestre del 2022 è salito del 41,18%, una percentuale che toglie smalto agli aumenti precedenti, nonostante fossero a loro volta ingenti, più 15,3% nel terzo trimestre del 2021 e a fine sempre del 2021 più 14,4%. Le tariffe, come vi dicevo, definitive saranno comunicate all'inizio di novembre. Il prezzo comunicato da Arera è calcolato sulla scorta delle indicazioni fornite dagli operatori e soltanto alla fine di ogni mese sarà possibile stabilire la reale entità dei prezzi. Sulla base delle tariffe reali verrà quindi allestito il conguaglio, il quale ricadrà sulla bolletta del mese successivo. Le voci più critiche si sono rivelate non del tutto puntuali, ma non per questo infondate. Il timore che i consumatori potessero conoscere con 30 giorni di ritardo il prezzo del gas viene parzialmente meno, perché Arera comunica un prezzo indicativo già durante i primi giorni di ogni mese. Oggi i consumatori hanno una stima di quanto costerà il gas durante il mese di ottobre e potranno farsi un'idea, anche se non precisissima, dell'entità della bolletta che saranno chiamati a pagare a novembre. Il dibattito si fa più interessante quando si parla dei prezzi a cui è scambiato il gas sul PSV e sul TTF. Le quotazioni sono per lo più diverse, eppure essendo vero che fino a metà settembre il prezzo fessato sul mercato italiano è stato generalmente più alto di quello del TTF a fine settembre la situazione si è invertita. Il gas sul TTF era quotato 2.019 euro per SMC, che è lo standard metro cubo, quindi 2,019 ossia l'unità di misura usata dai fornitori per fatturare il gas consumato dalle utenze. Mense il prezzo in Italia era di 1,963 euro per SMC, standard metro cubo. Arera, limitatamente ai consumatori che sottostanno al regime di maggior tutela, 7,3 milioni di clienti, ha accolto le richieste dell'Unione nazionale dei consumatori, la quale, per meglio proteggere i clienti finali dalle variazioni verso l'alto dei prezzi del gas, ha proposto la bollettazione mensile, una misura che limita gli effetti dei conguagli calcolati su periodi più lunghi e che, secondo l'associazione stessa, avrebbe dato il meglio di sé applicando tariffe ex ante decise in anticipo e non ante post comunicate in seguito al periodo di bollettazione. Arera ha fatto uno sforzo anche in questa direzione, stimando ex ante il prezzo della materia prima e impegnandosi a renderlo definitivo entro il secondo giorno lavorativo del mese successivo, quindi entro il 2-3 di novembre, dipendentemente se cade di sabato, domenica, lunedì. Ecco, quindi il secondo giorno lavorativo del mese di novembre, come di tutti i mesi, verrà fuori il prezzo indicativo del mese successivo. Quindi abbiamo visto un aumento del 59% della luce e un aumento del 74% del gas. Cucinare diventa qualcosa di lusso, come accendere la luce. Ecco, stare in cucina con la luce accesa a cucinare la pasta comincia a diventare decisamente costoso. Ecco, forse credo che andranno per la maggiore magari i piatti, quelli di cucina fredda, no? Il tonno con un po' di insalata russa, ed è finito lì, così non accendo neanche il gas. Insomma, in qualche modo gli italiani dovranno fare, perché se i soldi non ci sono bisogna farli bastare e quindi delle soluzioni devono essere trovate dalle famiglie. Per quanto riguarda le imprese, le soluzioni non ci sono. Un ristorante, una pizzeria, un'azienda che ha bisogno della luce, del gas, lì non è che puoi tanto risparmiare. Anzi, realmente i risparmi sono quasi zero che tu puoi fare, perché è quello che ti serve, utilizzi, non è che le aziende utilizzano gas a caso o luce così, tutto acceso, tutti i macchinari accesi. Vedremo quello che succederà nei prossimi giorni, nelle prossime settimane, perché come abbiamo detto più di una volta, una via d'uscita non c'è. La via d'uscita è che tutto rientrasse e i prezzi scendessero per la fine della crisi internazionale, eccetera, eccetera, ma non sembrerebbe un qualcosa di facile e veloce risoluzione. Grazie a tutti e arrivederci.